Nicolà Vaporidis ha una nuova fidanzata dopo Giorgia Surina Nicolà Vaporidis è tornato in tv per promuovere la sua ultima fatica cinematografica. A sabato italiano, nel salotto di Eleonora Daniele, non sono però mancate le domande sulla vita privata dell'attore. L'interprete lanciato dal film Notte prima degli esami è da sempre molto schivo e riservato e anche questa volta ha parlato pochissimo della sua nuova fidanzata. La bionda con il quale Nicolà è stato immortalato quest'estate in vacanza. E della quale non si conosce neppure il nome. Una cosa è però certa, Vaporidis è felicemente fidanzato e la nuova storia d'amore procede a gonfie vele. A chiarirlo il diretto interessato nel programma di Rai 1, dove si è limitato a ribadire, in amore tutto bene. Chi è la nuova fidanzata di Nicolà Vaporidis non si sa praticamente nulla sulla nuova fidanzata di Nicolà Vaporidis. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo qualche mese fa, si tratta dell'erede di una famiglia di importanti imprenditori torinesi. Non si sa di più, né il nome né l'età né tantomeno come i due si siano conosciuti. Nelle foto pubblicate dalla rivista di Riccardo Signoretti la Vaporidis e la misteriosa bionda sono apparsi complici e affiatati, letteralmente travolti dalla. Il loro amore, a quanto pare, è cresciuto nel corso degli ultimi mesi. Ma lontano da Instagram o Facebook, Nicolà non ha mai pubblicato un selfie con la ragazza sebbene sia molto social. Sul suo profilo si possono trovare solo foto dei suoi ruoli al cinema e qualche scatto di vita quotidiana. Perché Nicolà Vaporidis ha divorziato da Giorgia Surina? Giorgia Surina e Nicolà Vaporidis si sono sposati nel 2012 a Mykonos, ma il matrimonio è durato appena un anno. I motivi della rottura, sembra per inconciliabili differenze caratteriali. I due non hanno avuto...